Buonasera Abruzzo, dal capoluogo le notizie di oggi, mercoledì 24 febbraio, dall'Aquila e dalla regione. Tarra Abruzzo, senza rinforzi, impossibile smaltire gli arretrati. Il maestro Leonardo De Amicis a Sanremo, tanta musica, insicurezza, l'intervista. Arresti a Celano? No al processo social, deciderà la vera giustizia. Vaccinazioni Covid, tempi dettati dalle dosi disponibili, il 30% deve restare di scorta. Giro d'Italia 2021, l'Aquila, città di tappa, della Carovana Rosa. Per tutte le altre notizie visite il sito www.ilcapoluogo.it. Dalla redazione, buona serata.